Carnevale di Sciocca mancano esattamente due settimane all'inizio della manifestazione che prenderà il via il 10 febbraio con la sfilata dei carri e dei gruppi che quest'anno avverrà con una modalità diversa. Una bella novità che vi voglio anticipare perché non l'abbiamo ancora raccontata sarà che noi creeremo un momento di spettacolo a sottolineare l'inizio di ogni sfilata. Negli anni passati non si era mai dato, diciamo così, grande considerazione a questo momento. La sfilata partiva perché Peppe Nappa accendeva i motori e partiva. Quest'anno i carri non saranno all'interno del percorso quando arriveremo in via Lende ma saranno dietro il palco, quindi faranno un ingresso nella sfilata spettacolare accanto al palco principale. E questo inizio di sfilata ogni giorno sarà scandito da un momento importante sul palco dove ci sarà uno sparo di coriandoli, cioè praticamente inizierà la manifestazione e si farà sentire questo inizio. La Futuris ha scelto di non puntare sui testimonial ma su presenze e momenti di intrattenimento che siano funzionali allo spettacolo del carnevale. Abbiamo preso questa scelta quindi di invitare degli ospiti che siano funzionali allo spettacolo, all'intrattenimento, a prolungare la permanenza delle persone all'interno della manifestazione perché vogliamo far sì che, nonostante ci sia stata questa grande rivoluzione nel carnevale, quindi lo spostamento alla perriera, vogliamo cercare da un lato di mantenere la tradizione e il format della festa. La festa avrà lo stesso format che aveva nel centro storico, lo stesso genere di attenzione durante la sfilata, durante lo spettacolo sul palco, le recite, i copioni, le performance dei gruppi. A margine però del format carnevale di Sciacca abbiamo voluto creare delle aree, delle zone di intrattenimento che possano così consentire a tutto il pubblico presente nella manifestazione di avere altre occasioni di intrattenimento. Futuris che dopo aver avviato la campagna acquisti per il biglietto singolo per l'abbonamento sta già registrando notevole interesse da parte di comitivi e gruppi organizzati provenienti da varie zone della Sicilia. Sta funzionando la vendita del carnevale, fuori da Sciacca sta andando molto bene, quindi c'è molto interesse, questo ci rende veramente contenti. C'è molta aspettativa anche perché queste novità introdotte stanno facendo capire che ci può essere un modo per rendere più gradevole lo spettacolo in Vialende, del resto questo è, quindi o decidiamo di non farlo o se lo dobbiamo farlo dobbiamo fare bene, ci dobbiamo presentare alla grande. Interessante infine la riflessione di Antonio Di Marca sulla questione della location del carnevale con le polemiche mai sopite rispetto allo spostamento dal centro storico alla perriera. A noi piacerebbe in futuro portare il carnevale nel centro storico, ma proprio il vero carnevale. Questo sarebbe il nostro più grande desiderio ed è quello che speriamo possa avvenire in futuro, magari realizzando un certo lavoro preventivo. È chiaro che quest'anno abbiamo avuto l'organizzazione del carnevale a poco più di un mese dallo svolgersi della manifestazione, quindi sarebbe stato impossibile pensare di avviare un'azione in tal senso. Certo che se avessimo un affidamento con più tempo potremmo anche valutare l'ipotesi di provarci quantomeno, di capire quali sono veramente le criticità e cercare di risolverle, di trovare delle soluzioni. Questo sarebbe il nostro più grande desiderio. Il carnevale si può riportare in centro lavorandoci per tempo? No, no, questo non te lo posso dire con certezza. Ti posso dire che se avessi tempo proverei a lavorarci.